Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. Una di queste astronavi è l'Orion. L'Orion fa parte di un gigantesco sistema di sicurezza che serve a proteggere la Terra dalle invasioni dell'universo. Accompagniamo dunque l'Orion e i suoi occupanti nel loro giro di pattuglia all'orlo dell'infinito. L'Orion fa parte di un'orion.